Un buongiorno a tutti gli appassionati di basso, sono Carlo e questo è il canale dove ogni giorno vi suono e vi spiego un riff di basso. Oggi affronteremo un bel blues suonato in maniera un po' particolare con un basso e dei bicordi. Questo riff è contenuto nel mio metodo Bass Blues Licks di cui potete trovare informazioni sul mio sito www.carlochirio.com oppure potete acquistarlo da Amazon oppure iTunes o altri canali o store digitali. Questo è un blues in me. Viene suonato con il basso E, tasto 7, corda di A. La risposta viene fatta con un bicordo B e E al tasto 9 rispettivamente della corda di Re e di Sol. Poi viene messo un basso di Re. Siamo sempre sull'accordo di Mi, quindi un Mi settima in cui viene messo basso di Re, cioè la settima minore. Mi bicordo, Re bicordo. Poi facciamo un pull off da Sol a Mi e mettiamo il bicordo. Ok. La prima battuta viene fatto questo. Mentre nella seconda c'è una piccola variazione. quindi prima battuta. Seconda battuta. Dopo il pull off Sol a Mi vado a prendere il bicordo e lo striscio fino al dodicesimo tasto colpendo le note Re e Sol. Se riesco lo vibro anche un po'. Viene fatto due volte questo riff e poi dovrò calcolarmi la stessa posizione sul quarto grado dove lo farà una volta, poi ritorna sul primo grado. Quindi il primo grado è il Mi e il quarto grado andrà sul La. poi ritorna sul primo grado e fa la stessa cosa. Poi ci sarà un quinto grado che scende al quarto. quarto grado e poi ritorna sul primo grado. Questo riff può essere anche fatto volendo con... io adesso con la mano destra lo sto suonando pollice, cioè lo sto suonando con l'indice e poi vado a fare B chord con l'indice medio. Sempre così. Si può suonarlo anche volendo con il pollice, i bassi. funziona anche molto bene, anzi, forse è addirittura meglio. Bene, grazie per aver seguito il video fino alla fine, spero di esserti stato utile in qualche modo. Ogni mi piace e commento è molto gradito e aiuta il mio canale a migliorare e crescere. Per rimanere in contatto iscriviti alla pagina bassa Riff of the Day e dal mio canale YouTube. Ci vediamo al prossimo riff, grazie e buona musica. Grazie a tutti.